Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sul server di Mineplex Affari di Zini Porteremo come al solito la serie Hunger Games Perché qui non c'è molto da fare E quindi speriamo che ci vada bene Ok sta per cominciare Intanto più sul Beastmaster Perché perlomeno se non troviamo un'arma subito nella chest Comunque ci possiamo difendere appunto con il cane Quindi speriamo che ci vada bene Allora speriamo infatti subito trovare qualcosa nella chest Però perché se no siamo un pochettino nella merda Allora vediamo se Ok la spada è incredibile e subito il cibo Perfetto questa è stata presa Ok c'era del cibo buono Allora non facciamo vedere che c'ha Questo qui perché lascia la scia Mi sa che è scioppino Allora noi proveremo ad ucciderlo Perché quelli scioppini mi Sono più lezzi di me In priorità perché anche io sono scioppino Dio mio Dov'è finito? Ragazzi se non riesco a uccidere quello senza nulla Sono messo male Ok un'ultima sparata E in teoria è morto questo qua Però forse non sto seguendo la strada Ah no la strada giusta in effetti forse è questa Vabbè noi prendiamo la roba qua Meno male che non si è fermata a prenderla Che poi lui Cioè che bella merda C'ha anche la scia Cioè il tipo dove sarà mai finito ragazzi C'è la scia tipo dietro Ok Vediamo se Olè Buttiamolo nell'acqua tipo No cane attaccalo Bravo No 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 Cari non ci morire mi raccomando Poi entra metallo in azione Ma è già morto? Mmm Penso sia morto in qualche modo Oppure Oh no forse è acquittato Forse è acquittato Non lo so perché Qua non c'è più Assolutamente E è morto Non so come Vabbè Magari l'ha scritto in chat Però non l'ho nemmeno letta E non c'ho nemmeno voglia di leggerlo Quindi andiamo avanti Allora ce ne sta uno laggiù Sulla destra Però noi non lo consideriamo più di tanto Perché siamo partiti abbastanza bene Con la spada Però se non troviamo nient'altro Siamo messi abbastanza male Quindi assolutamente Dobbiamo trovare l'armatura in qualche modo Perché appunto Se no perdiamo brutalmente Quindi cerchiamo di salire un pochettino Non lo so Vediamo intanto se c'abbiamo qualcuno anche dietro Ok dietro non c'è nessuno Da questa parte si sale Io non so quale sia La strada delle ceste qua So che viene chiamata tipo cestrut Una roba simile Quindi tipo Boh ok Penso che si sia notato Che non sono proprio un pro di questo gioco Ma che se ne frega Alla fine L'importante è divertirsi dai Allora Perfetto Il cane sta sempre qui Ok Non ti allontanare troppo E cominciamo a controllare un pochettino di casette a caso Perché Ah è un trono No ho detto Cosa ci fa una porta lì così a caso E invece no è un trono Perfetto Quindi qua c'è un villaggio E siccome nella cesta di prima C'era appunto la roba Magari non è stato esplorato Appunto Ecco qua la roba Io prendo anche queste spade qui Anche se sono inutili Perché comunque Magari passa uno che non ha niente Ed è bravo nel pvp E ci spacca il culo tantissimo Quindi sempre meglio evitare queste cose Allora Ok Ci trova anche il cibo anche qua dentro Non lo sapevo Ehm Vabbè no ragazzi Qua non c'è assolutamente nessuno Quindi Molto bene come cosa Oh questa cesta qui Mi sa che è prelibata No non è vero Non c'è niente Vabbè Si piedini Potrei anche prenderli Ok qua l'ho anche trovato Quindi sti cazzi Non devo ritornare lassù Ok perfetto Siamo perlomeno full Full merda Ma sempre full Quindi Ok questa cosa è una trappola No perfetto Oh le altre roba buona Cambiamo Ehm Allora a questo punto potremmo anche cominciare a cercare qualcuno Che magari ha qualcosa come noi Magari non è Cioè anche se è messo bene Scarsino Non lo so L'unica cosa che mi viene da pensare Cioè io ci spero Quello là è uno morto Cavolo Se quello lì è morto Tipo mi sa che c'è qualcuno qui intorno O comunque che ci è passato qualcuno Anzi è sicuro Perché se no non sviene a caso E c'è anche un cane Vediamo se c'è un proprietario Penso sia qua dentro Eccolo qua Eccolo qua Dai Muori tantissimo Perfetto Cane mettilo nell'angolo No c'è anche lui il cane C'è anche lui il cane L'abbiamo ucciso ragazzi L'abbiamo ucciso Perfetto Cavolo Mi aveva preso il suo cane da l'era Non so se l'avete visto E ho rischiato veramente tanto Però per fortuna Ce l'abbiamo fatta Soprattutto grazie con l'aiuto Anche del cane Ma alla fine ce l'aveva anche lui Quindi sti cazzi Uno sconto diciamo alla pari Soprattutto che il mio cane Era riuscito ad entrare Mentre il suo no Comunque perfetto Vediamo se Stato qua Tappiamo tutto Se posso prendere queste pozioni qui Ci sarà un modo per prenderle Qua ci sono dei cavi Proviamo a tirargli qualcosa No non si può Non funziona Vabbè Che cazzata Perché provo queste cose Non lo so Comunque ok Qua non c'è niente Allora tra un po' Siamo rimasti anche in otto Tra un po' dovrebbe spawnare La chest quella bella Però non so dove Quindi intanto ci incamminiamo Verso il centro Sembrerebbe una buona opzione E guardiamo un pochettino Allora Le chest saranno riempite Ah no ma la chest Probabilmente Eccola E qua giù sta spawnando E vabbè ragazzi In culo al mondo Non ci avevo nemmeno fatto caso Alle coordinate che la vadate Vabbè più o meno abbiamo visto la direzione Quindi sicuramente lì c'è qualcuno Vediamo da che parte era È laggiù E come ci si arriva là Ci dovrebbero essere tipo le scale Le scale che Ah eccole qua le scale Perfetto Vabbè Comunque qualcuno si incontra salendo È questo il punto Ora non so se lui sale O rimane Cioè Rimane laggiù appunto Scende Comunque La va tutto a fuoco Bello Comunque in teoria si dovrebbe Incontrare Perché Allo fine non penso Ci sanno molte strade per scendere Quindi Magari soltanto una E quindi forse lo troviamo Non lo so Ma si sper Oddio Non so nemmeno se sperarlo Ma non c'è nessuno qua Vediamo se Nessuno dietro Ma l'hanno già presa Quindi è sceso da qua Per forza Sì 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 Questo cos'è Una tomba No non mi ci voglio buttare Perché mi sa che da qua Non si sale No invece si sale No vabbè vabbè raga Purtroppo l'hanno già presa Ma Non Penso sia sceso Ah forse è andato dall'altra parte Vabbè non so In effetti ci metto 3 secondi Per venire qua e scendere E questo sia un po' un problema Siamo rimasti anche in pochi Però io non vorrei fare i soliti fail Dell'altra volta Tipo Intanto non devo stare al bordo Perché mi arriva uno Mi butta di sotto No ragazzi Comunque qua è un po' un bordello Ora perché Probabilmente gli altri sono messi Anche meglio di me Perché noi non è che siamo messi benissimo E il problema appunto È che magari sono anche più forti di noi Eccone uno qua E cullo all'inizio che Dio mio Ok Ci avrà visto Non lo so ragazzi Se ci ha visto No quello là Ma ok Qua c'è qualcosa di buono No No Merda E raga È rimasto quello che volevamo uccidere all'inizio Che poi non abbiamo ucciso Dio mio ma Ok sono caduto in trappola Perfetto Quindi quanto bisogna aspettare Un bordello Ah no si può uscire da qua Perfetto No ma no Gli infarti mi vengono Ok ce l'ho fatta ad uscire No ragazzi Quello lì l'avete visto che c'era la scia Ecco non penso ci sia molta gente con la scia Quindi probabilmente era quello veramente che c'era all'inizio Comunque Da questa parte qui c'è il bordo che si restringe Quindi non ci andremo assolutamente La meglio mi sacca andare al centro E sperare di trovarne al massimo uno al centro E non tipo due o tre o Tipo tutti Perché è una cosa abbastanza triste se no Allora proviamoci Il centro dovrebbe essere questo qui a destra Ok qua c'è un cadavere Io penso che me la prenderò con calma e salirò Ah no già è vero Perché ora rifilano le ceste Per questo c'era il tipo lì al centro Che c'è andato ora Ok quindi sicuramente sarà lì ad aspettare A questo punto ragazzi proviamoci Andiamoci e spring bene Allora Le ceste dovrebbe essere qua Il tipo Sono due Cavolo Cane cane vacci Cavolo Sono un team ragazzi Sono un team Che salto madonna No 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 Non voglio rischiare Ne ho visto anche un'altra a sinistra Se non sbaglio Se non sbaglio eh Vediamo se mi stanno inseguendo Ok non mi sta inseguendo nessuno Vediamo se questo qua era veramente qualcuno Oppure no No forse mi sono sbagliato Non so avevo visto un coso tipo giallo Però cavolo col team da due lì È un problema A parte che evitato team mare Qua sono evitati team Ragazzi è vero Avevano messo la regola lì Non si possono fare team Che strunzi Che strunzi I team sono da ban Pezzi di merda Ma dai Vabbè Ma se teamano questi strunzi qui però Proviamo a ucciderne uno perlomeno No ragazzi no niente niente Bisogna scappare qua Corri corri metano Non ce l'ho dietro E come cazzo faccio ora? Io che ci vado anche con pochissima vila Sono un genio Vabbè me la shift qua 8 minuti per la fine Ragazzi non ho senso Ah no 8 minuti sono quelli passati Non dalla fine Ok Uno è morto però Uno è morto Io non so Non ho tutta la vita Quindi non dovrei rimanere qua però Al centro esposto Perché è un po' pericoloso Però l'altro non so che fine abbia fatto Ok eccolo qui Ragazzi eccolo qui Dio mio Meno male che non ho preso il danno Cane attaccalo Bravo cane No un altro da dietro Un altro da dietro Stronzo stronzo Ok uno l'abbiamo ucciso Scappa scappa metano scappa No Cavolo ci ha ucciso Però che palle Anche quello lì che stava aspettando Lì ora non so se erano in team Quei due o no Però almeno uno l'abbiamo ucciso Sono rimasti in tre ragazzi E devo dire che è stato abbastanza difficile Dai Ok ragazzi Ci è andata male anche stavolta Però il fatto è che sì Io un pochettino sono scarso Però guardate qua Dice perfettamente che il team è bannabile Quindi se io c'ho sfighe E trovo quelli in team Che sono rotti in culo di merda Non è colpa mia Purtroppo questo c'è da dirlo Comunque ragazzi Io spero che questo video lezzissimo Vi sia piaciuto A prescindere Perché anche se abbiamo trovato Il team lezzissimo Ci sta lo stesso Perché qualche kill l'abbiamo fatta Appunto spero che vi sia piaciuto Ed ciao a tutti Ciao a tutti